Luca, da cosa sei più stupito? Dal successo avuto a Monaco oppure da quello riscosso dai giornali televisioni italiane? No, devo dire da quello dei giornali, perché comunque noi come azienda esistiamo da dieci anni e quindi siamo abbastanza abituati a un riscontro mediatico importante, però per quello che è il mondo dei motori e dell'automotive. In questi giorni dopo Monaco siamo stati un pochino proiettati un po' al grande pubblico, ci stanno conoscendo anche chi ignorava della nostra esistenza. L'improvvisa notorietà fa sorridere Luca Mazzanti, è da quando era ragazzo infatti che giorno dopo giorno ha costruito il suo sogno fino a realizzarlo. Un mese fa al Top Marchis, il Salone del Lusso di Monaco, la sua evantra interamente progettata e realizzata nel suo stabilimento di Gello è stato l'oggetto più ammirato dai visitatori, incantando lo stesso principe Alberto di Monaco. L'auto, dedicata alla Dea Etrusca dell'Immortalità, è appunto il risultato di un percorso niente affatto improvvisato, che cominciato negli anni 90 ha avuto la sua svolta poco meno di dieci anni fa, quando da carrozziere Mazzanti, con l'aiuto del maestro Mario Faralli, si è trasformato in creatore di modelli propri. Abbiamo iniziato dieci anni fa con la prima modello, la Antas, quindi abbiamo creato il nostro piccolo marchio automobilistico dieci anni fa, fino a evolvere questo concetto che è passato dalla costruzione di one-off, quindi unici esemplari, sia con il nostro brand sia per clienti, alla costruzione e l'entrata in produzione della prima vera automobile di produzione, anche se di piccolissima produzione, che è la Evantra. La sua prima automobile, Atlas, gli evvalse il riconoscimento internazionale e l'acquisizione di una grande credibilità tra gli addetti ai lavori, ricevendo commissioni da nuovi clienti per progetti ad hoc. In contemporanea partiva la realizzazione di Evantra, che adesso è diventato un modello da produrre in cinque esemplari l'anno, ovviamente destinati a clienti facoltosi, provenienti dall'est Europa o dall'estremo Oriente, capaci di pagare questo gioiello 650 mila euro, come fosse un'opera d'arte. E in effetti quella di Mazzanti, più che una casa automobilistica, potrebbe essere la bottega di un artigiano di talento. Ci definiamo un atelier, un atelier perché richiama un po' quello che è il concetto del vestito su misura. Le nostre automobili sono come un vestito su misura, vengono fatte in cinque esemplari all'anno, il massimo, e vengono customizzate intorno alle esigenze del cliente. Eccoci di nuovo a parlare del made in Italy, che Mazzanti ribattezza handmade in Italy, per sottolineare che la qualità del prodotto italiano è garantita in primo luogo dal lavoro artigianale, così bello che non ha neppure bisogno di essere pubblicizzato. Come nel suo caso, che di questo non si è mai occupato, avendo alla porta decine di giornali e riviste di settore pronti a tutto, pur di avere le sue opere in copertina. Ed ora un'iniziativa benefica di Artigianato e Palazzo, che mette all'asta un'ora di jogging con il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Grazie.